Iman Gianni dice che domani arriva la prima trasferta stagionale per l'NLSNC, si va in trasferta a Quartus Antenna contro la Promogest, ci arrivate con la spinta, con il morale alto dopo la vittoria di sabato scorso contro i Munantichi? A noi sempre ogni partita dobbiamo dimostrare la nostra forza, così non si vive da vecchia gloria, andiamo sempre avanti, così anche per prima trasferta speriamo che vinciamo e torniamo a casa con tre punti. Nella partita contro i Munantichi ci sono stati degli errori in difesa soprattutto, secondo te è stata una casualità, una situazione momentanea oppure c'è qualche problema dietro? C'è secondo me di momento perché sono lo stesso sbaglio che si sempre ripetono così, dobbiamo darlo al minimo e andare avanti così, comunque squadra nuova ha cambiato tutta da riguardo per gli ultimi due anni, tutti giovani così c'è tempo e spazio per miglioramento. Quindi cosa c'è da migliorare? Difesa, diciamo difesa e dobbiamo lavorare tanto con giovani, con esercizi individuali e quelle cose che stiamo aggiungendo ora in quella difesa e vediamo, ma soprattutto difesa. Parliamo anche dell'avversario, la Roma gesta che ha in squadra tanti giocatori arrivati proprio da Cagliari ma anche Nama che l'anno scorso ha vinto il campionato di Serie 2 con il Trieste e Vuleda che invece ha vinto il campionato di Serie 2 con il Sori, secondo te è una squadra che può mettervi in difficoltà? Io sempre ripeto, noi quando giochiamo sempre guardiamo il nostro gioco, non guardiamo l'avversario, così sono loro che devono guardare a noi e io se c'è qualcuno forte lì lo marco io e vediamo. Con gli addi che ci sono stati in estate è cambiato il ruolo di Gianedice nella squadra? Ti prendi più responsabilità? Non lo so, anche ora diciamo di meno perché sono più giovani, allora se io sbaglio non ci sono più quegli esperienti che vedono questo, così diciamo un ruolo è rimasto lo stesso.